Buon pomeriggio mister, io riparto un po' dalla partita con il Venezia perché penso che ti abbia dato delle indicazioni positive, qualcuna magari anche negativa, però abbiamo affrontato sicuramente una squadra forte, quindi lo Spezia è stato all'altezza, anzi quando abbiamo accelerato secondo me ne abbiamo vesti sempre molto in difficoltà, quindi ecco volevo sentire la tua impressione dopo qualche giorno su questa gara. È stato un passaggio del turno che abbiamo accettato con soddisfazione ed è arrivato alla fine di un percorso dall'inizio della preparazione positivo, la squadra ha fatto una buona partita, sicuramente migliorabile in alcune situazioni che noi conosciamo, specialmente nel momento della pressione, abbiamo duellato alla pari con una squadra organizzata, forte, che mi piace tantissimo come il Venezia e c'è soddisfazione per il passaggio del turno, sicuramente, e dalla partita abbiamo tratto sicuramente indicazioni per poter migliorare, ma fino a oggi, dall'inizio, dal 10 luglio, la squadra è in un cammino soddisfacente da questo punto di vista qui, con tante migliorie da fare, ma sono soddisfatto alla fine di quello che mi stanno dando e il passaggio del turno è stato positivo. Buongiorno mister, questo esordio è probabilmente, in mia opinione, quantomeno tra i più complicati che poteva capitare allo Spezia. È una squadra che chiaramente ha fatto molto bene sul Tirol l'anno scorso in campionato ed è una squadra che ha un tipo di gioco che probabilmente è un po' prototipico in Serie B, quindi attendere l'avversario, un forte agonismo, tentare di verticalizzare il contropiede, diciamo una squadra un po' speculativa a differenza di quello che lei sta tentando di fare con lo Spezia. Ho grande rispetto per loro, una squadra che l'anno scorso è stata assolutamente la rivelazione del campionato, facendo un campionato straordinario, complimenti a loro. Posso dire però che per me il su Tirol sa quello che vuole fare quando ha la palla e sa quello che vuole fare quando non ha la palla e già questo è sufficiente per capire la difficoltà che troveremo, quindi per me è un grande rispetto, è una partita difficile contro un avversario che è molto organizzato, sempre. Sì, Ministro, buongiorno. Abbiamo visto in questo primo turno di Coppa Italia tutte le squadre di Serie B scende in campo, sono quasi solamente in sei. Voi probabilmente avete fatto una delle prestazioni migliori delle squadre che sono passate. Le chiedo poi un giudizio appunto sulle avversarie di questa Serie B che sta per cominciare, che comincia questa sera, anche in virtù di quello che si è visto la scorsa settimana. È un campionato bellissimo la Serie B, ho avuto la fortuna di poterlo fare per due anni e non penso che possiamo dire oggi che c'è una squadra favorita rispetto all'altra perché c'è molta imprevedibilità, c'è molta qualità da parte di tutte le squadre. auguro a tutte le squadre buon lavoro e che vinca la migliore. Sarà un grande campionato e non mi esprimo nessun giudizio. Penso a noi, a quello che vogliamo fare, a fare il massimo per essere all'altezza del campionato che ci aspetta. Sì, Mister, abbiamo visto l'11 schierato contro il Venezia in Coppa Italia. Ecco, è la formazione che al momento forse le dà più garanzie o pensa di fare qualche cambio in questa prima giornata di campionato? Devo dire che quando siamo partiti abbiamo trovato qualche situazione di qualche infortunio grave che era purtroppo accaduto nella scorsa stagione e quindi ci sono giocatori che hanno lavorato fin dall'inizio su questa idea, altri che sono entrati dopo 20 giorni, dopo 25 giorni e quindi c'è qualche giocatore che è più avanti come struttura, come lavoro, come volume proprio di lavoro. In questo momento questa è una base che ci soddisfa, ma la soddisfazione nostra viene anche dal fatto che ci sono giocatori che stanno recuperando dai loro infortuni e sono pronti a poter entrare. Comunque sulla base è questa, non è che andiamo tanto lontano. Buongiorno mister, con l'arrivo del nuovo difensore Giorgiano pensa di essere a posto per quanto riguarda il reparto difensivo o quantomeno? Non so se è arrivato ufficialmente, non so. In questi giorni la mia preoccupazione è per la partita del campionato e quindi vediamo come andrà la situazione. Sicuramente lì avevamo bisogno di qualcosa, vediamo la situazione di Ristov e poi vedremo quali sono gli sviluppi. Buongiorno mister, la mia domanda riguarda i calci di rigore. Nel senso che contro il Venezia ne ha battuto uno Moro, poi dopo ne ha battuto uno Esposito che ha sbagliato però poi ha segnato nella lotteria dei rigori. Lei tende a variare? Sono stato io a dire che lo deve essere Esposito, quindi è responsabilità mia. Il rigorista è Moro e se gioca capiterà e tirerà il rigore in Moro, però lunedì sono stato io nella gestione. Quindi è responsabilità mia assolutamente. Ho visto che fai variazioni perché hai giocatori in quel reparto, parlo soprattutto del centrocampo anche se in realtà poi le hai in tutte le parti, a parte un po' forse la difesa, però tendi a cercare di sfruttare nel corso dei 90 minuti anche la freschezza dei giocatori, quindi la vera disposizione ai giocatori anche giovani di una certa gamba in panchina ti permette magari di lavorare anche sui 90 minuti e sui 5 cambi in una certa maniera. Sì, ma questo è la fortuna. Penso che ogni allenatore cerca di sfruttare la qualità, la profondità della rosa che ha a disposizione. Non solo la gamba, a me mi piace anche la qualità e cerchiamo di aumentarla ancora, ma sicuramente sfruttare la rosa è fondamentale per noi e cercheremo di farlo ancora. Ecco mister, la piazza viene anche da un campionato che è stato tribolato, finito con la retrocessione chiaramente, ma ecco anche in cui posso dire non ci si è divertiti molto. Entra invece in questo precampionato oltre ad avere un percorso netto, insomma perché lei ha praticamente sempre vinto, si sono visti anche tanti gol, tanto gioco, tanta velocità, tanta propensione offensiva. Ecco, se questo aspetto che peso dà tanto chiaramente nella sua carriera, nella sua storia dell'allenatore, ma anche nella possibilità di trascinare la piazza e quindi creare quell'entusiasmo che probabilmente può far fare quel salto in più. Alla città, a me piace più usare questa parola qui, alla città vorrei chiedere, come ho chiesto alla squadra di dimenticare quello che è stato. Mi rendo conto della delusione e delle score che può portarsi dietro, ma è il momento, è arrivato il momento, già è arrivato il momento di cambiare, la squadra sta lavorando in quella direzione lì, noi lo stiamo cercando di fare e insieme possiamo farlo tutti quanti per cercare di riportare il sorriso, per lavorare con un'idea precisa, tutti quanti insieme, verso un obiettivo. Io quando sono venuto qua a giocare ho sempre venuto a vedere alcune partite, ho sempre visto un picco, una tifosteria che era dietro alla squadra, che spingeva. Ecco, io capisco tutto l'onta della delusione di quello che è avvenuto, ma è il momento, è già arrivato, è il momento di guardare avanti con fiducia, con entusiasmo, con voglia e noi vogliamo fare il massimo, il massimo per lo Spezia. Sì, Ministro, una domanda sugli infortuni, le chiedo a questo punto come sta la squadra, se stanno tutti bene, se c'è qualcuno che invece è ancora un po' alciaccato, insomma, come siamo messi? Abbiamo avuto dopo la partita di Venezia un paio di problemini, vediamo un attimo l'allenamento di domani, perché non è che faccio la formazione standard, mi baso anche sul lavoro settimanale, sugli allenamenti, sull'intensità, sulla voglia, sulle idee che mettiamo dentro durante l'allenamento e quindi ci sono state un paio di situazioni da vedere, non tutti stanno benissimo dopo 120 minuti e quindi alcune valutazioni potranno essere fatte anche in quella direzione lì, ma mi fido completamente di tutti i calciatori che ho a disposizione. Grazie a tutti.